Il mercato del Pescara. Per la difesa piace il centrale mancino Luca Coccolo, classe 1998 di proprietà della Juventus. Ultima stagione per Coccolo in Serie B. Prima la Spal, 5 presenze, poi l'Alessandra, 7 gettoni. Tra l'altro c'è da dire che ha anche saltato 10 gare per infortunio, al quale però si è completamente ristabilito, un infortunio al ginocchio. In precedenza tre presenze con la Cremonese, in C71 con la Juventus Anderra 23. Primissima esperienza tra i professionisti col Prato, 13 presenze da gennaio a giugno 2018. Su Coccolo però è forte il pressing della Triestina del neo allenatore Andrea Bonatti, ex tecnico della Juve Primavera. Altro centrale attenzionato, Andrea Meroni, classe 97, proprietà Sassuolo. Lo scorso anno otto presenze nella Cremonese in Serie B. In precedenza ha vinto anche un campionato protagonista nella Pisa di Luca D'Angelo dalla Ciela B nella stagione 2018-2019. 30 presenze all'attivo. Venerdì, come abbiamo già anticipato, si chiude per Mora e Giabuà. Ieri Luca Mora e il suo agente Paolo Scotti hanno pranzato a Pescara col presidente Sebastiani e il DS dell'Icari. La rintesa raggiunta, venerdì, il 34enne centrocampista ex Spal sarà di nuovo in città per visite mediche e firma a contratto di un anno con opzione. Fatta anche per la mezzala che state guardando in fotografia. Emanuele Giabuà, ex Perugia, di proprietà dell'Atalanta, l'italo-ganese rinnoverà domani col club aerobico che poi lo girerà in prestito secco al Delfino. Per quanto riguarda invece Pezzella, hanno ancora deciso il metronomo, il metodista classe 2000 ex Modena, ex Siena e Reggiana di proprietà della Roma. Bene, il club biancazzurro lo aspetterà sino a domani. Probabile risoluzione con Giambo per motivi di natura familiare. Il classe 2001 franco-senegalese ha chiesto di essere liberato. E poi ancora, ieri ha firmato il laterale mancino Davide De Marino, classe 2000 di proprietà della Juve, la formula prestito con diritto di riscatto. Oggi visite mediche per il portiere Sommariva, il centrocampista Lombardi e per la classe 2002 Gianluca Germinario, mezzala proveniente dal Chisola, squadra piemontese neopromossa in D per un tecnicismo, diciamo così, sarà tesserato a partire dal primo agosto. Domani visite mediche per Saccani, venerdì sarà la volta dell'attaccante Cuppone, che è stato prelevato dal Cittadella in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nessuna nuova su Maiorino e Radrezza. Il portiere da affiancare a Sommariva, il club deciderà dopo la prima settimana di ritiro tra i papabili. Furlan, di proprietà dell'Empoli, classe 93 e poi Venturi, classe 92, di proprietà della Reggiana. Il 22enne Ghidotti che si è messo in luce quest'anno, anzi, nell'ultima tre stagioni quasi 100 presenze in C con Pergolettese, soprattutto l'ultima in grande evidenza con il Gubbio, classe 2000, ripetiamo, ma di proprietà della Fiorentina. Infine è confermata a Palena l'amichevole domenica 24 luglio con la Dana Demir Spor, club turco di Montella e Balotelli, nelle cui fila, tra l'altro, milita l'ex Birkir Bjarnason.